Che abbia fatto un figurone fuori e dentro l'Abruzzo lo pensano quasi tutti. Il meccanismo vaccinale del palafiere di Via Tirino a Pescara ha funzionato presto e bene. La filiera partita dal momento della prenotazione, quindi dal sistema digitale del Comune, è arrivata fino alla somministrazione e apparsa ben concepita. Tanti vaccini e pochi file. Aperto dal 22 marzo al 30 settembre, il palafiere messo a disposizione dall'imprenditore Franco Danelli si è dunque rivelato una location ideale per rapportare la provincia di Pescara vicinissima all'80% di cittadini immunizzati. Il grazie del sindaco Masci oggi è andato a tutti i protagonisti, circa 120 ogni giorno, tra municipale, asle, volontari, protezione civile, medici, farmacisti e infermieri. Tutti qui si sono dati un grande affare. Oggi il palafiere saluta e se ne va, con qualche fila in più. Dopotutto è l'ultimo giorno, occasione ghiotta per i ritardatari, e con la compresenza di un concorso che ha generato qualche equivoco. Ha funzionato il rapporto fra le istituzioni, il Comune, la AS, la Regione, tutte le realtà che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo e che è stato colto perché oggi Pescara è una città che ha raggiunto l'immunità di greggie. È una strada tracciata da cui non si può tornare indietro e continueremo così per fare in modo che ogni problema dei cittadini di Pescara possa essere risolto attraverso questo connubio forte tra gli enti, tra le associazioni di volontariato e tra le strutture che hanno dimostrato di saper funzionare. Voi sapete il 30 settembre, nella mia delibera, nella delibera di giunta, c'era scritto che avremmo raggiunto l'immunità di greggie entro il 30 settembre. Siamo vicini a questa percentuale, vicini perché c'è quel target di popolazione dai 40 ai 49 anni che ha raggiunto la percentuale di vaccinati al 74%. Invece per gli over 80 abbiamo raggiunto l'87-90%. Quindi è importante oggi convincere, ma più che convincere io lascio la libertà a ognuno di avvicinarsi alla vaccinazione attraverso una consapevolezza, attraverso un percorso di sensibilizzazione che noi con le nostre attività stiamo portando avanti. Siamo stati presenti sia durante il periodo estivo ma anche adesso periodo scolastico nei posti e nei luoghi giusti. Abbiamo avuto un numero consistente oggi di vaccinati perché era l'ultimo giorno in cui si poteva accedere senza prenotazione. L'affluenza estrema c'è stata perché qui a fianco, nell'altra metà parte del Palafiere, c'è un concorso in atto con un migliaio, mille, mille e cinquecento persone. In questa struttura abbiamo fatto anche oltre due mille e cinquecento vaccini in un giorno e la media è stata di mille e quattro, mille e cinquecento vaccini al giorno. La ciliegina sulla torta sarebbe potuta arrivare se avessero comunicato, oltre alla chiusura della sede di via Tirino, anche l'apertura della nuova sede, dove ancora non è dato saperlo. Quelli che hanno fatto la prima dose qui andranno nel posto che verrà comunicato? Hanno già la data e l'orario di prenotazione, quindi abbiamo indicato una sede temporanea, però probabilmente saranno raggiunti tutti quanti da un messaggio telefonico in cui si darà la nuova sede vaccinale a partire o da lunedì o da martedì prossimo, della prossima settimana.